Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori smarigliatrici angolari. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la bocce professional. Se si desidera qualche suggerimento su quale smarigliatrice angolo per ottenere, il nostro primo suggerimento più probabile per il modello specialist da bocce, l'azienda tedesca che difficilmente tradisce le aspettative dei suoi consumatori. Infatti, anche nel caso di questo modello, ci troviamo di fronte a un articolo che si distingue per la sua straordinaria qualità proporzione di tasso. Al numero 4, abbiamo Makitaga 4530. Un altro prodotto eccezionale con cui vi consigliamo vivamente di fare un contrasto è questo design di Makita che vi stupirà con la sua alta qualità, convenienza e tasso. È, in realtà, una smariglietrice ad angolo così portatile e anche leggera che difficilmente si osserva che lo si sta utilizzando. Al contrario, ha un corpo così piccolo che è estremamente comodo fare uso anche con una mano in base all'angolo di lavoro. Questa meravigliosa maneggevolezza incorpora una potenza superba che consente prestazioni elevate. Al terzo posto, abbiamo la Black più Decker CD 115. Un design Black e Decker non può mancare tra gli articoli più venduti e consigliati. Se guardiamo con attenzione, in verità, dobbiamo immediatamente dire allo stesso modo uno dei meno costosi. Infatti, è possibile scoprire questo disegno ad un costo eccezionale. Chiunque sia alla ricerca di una smariglietrice angolare alla spesa più bassa possibile potrebbe finire la loro ricerca proprio qui. Siate cauti, la qualità non è così frustrante come si potrebbe credere. Al numero 2, abbiamo il Bavaria Bug 115-1. Anche se si sceglie di acquisire due per l'utilizzo alternativo e anche affrontare i problemi inevitabili di ottenere troppo caldo, si sarebbe ancora fare un affare. Tuttavia rispetto ad altri articoli nella stessa varietà di prezzo, la versione creata dalla Baviera è molto più immune e con una qualità superiore nella macinazione così come nel materiale di taglio. È, per questo motivo, più robusto e anche resiliente, nonché eccelle anche nel prendersi cura di così come la comodità di utilizzo. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il smarigliatrice angolare. Sul mercato è possibile acquistarli con caricabatterie e batteria o senza, ma in tutti i casi rimane un prodotto estremamente conveniente da un punto di vista finanziario in grado di soddisfare le esigenze di coloro che non vogliono spendere eccessivo. Per coloro che attualmente hanno un altro strumento in L, la batteria è compatibile. È un prodotto davvero resistente e resistente. Con i mulini elettrici ci può essere un piccolo shock non appena si inizia, questo non è un problema per i tagli più grossolani, tuttavia. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.